Salone Auto Torino Per vedere le novità di prodotto Scoprire come andremo nel futuro Come ci muoveremo nel futuro Quindi una grande festa automobilistica Dal 13 al 15 settembre Salone Auto ha un format totalmente nuovo Nell'ambito dei saloni motoristici Siamo nel centro della città di Torino Occupiamo tutte le vie e le strade principali Cosa si potrà vedere? Le novità di prodotto Le supercar, le auto classiche Ma soprattutto ci saranno i test drive Di tutte le tecnologie Quindi il Salone Auto Torino Si pone come tecnologia neutra La neutralità E quindi la possibilità per il pubblico Di provare la motorizzazione Che fa per il proprio caso